Nel mio futuro ancora non so niente, questa partita l'aspetto come tutte le altre che abbiamo giocato finora. Sappiamo che una finale per noi è che siamo qui all'Inter per alzare i trofei, quindi Inter negli ultimi anni è stata riportata dove merita di essere e per cosa deve competere, quindi siamo qui per questo. Io da quando sono arrivato in Italia nel 2004 sono sempre stato professionista, bisogna anche adattarsi ai ruoli che ti aspettano e non è sempre solo importante il campo, è importante tutto, fuori dal campo, dentro il campo, spogliatoio. Io ho avuto anche gente da cui potevo imparare, io penso che cosa può essere più, di cosa sono soddisfatto di più nella mia carriera è la crescita che avevo sempre. Ogni anno e nei ultimi anni anche personalmente e caratterialmente che fascia mi ha responsabilizzato e dovevo fare anche altre robe, quello che non facevo prima. Stagione non la posso definire perché non è ancora finita, quindi queste partite che mancano determinano molto anche come si giudica la stagione per me. No, no, ogni anno c'è, ogni stagione c'è il suo perché, due in partita si mandano in quel paese, magari non è bello, però questo vuol dire che gente ci tiene, che poi è peggio se nessuno non dice niente. Mi ha fatto piacere vedere e anche cosa sono stato sorpreso che quando mi ha dato mano sapeva che ero andano, invece mi ha detto guarda che tre giorni fa è stata presidente della Slovenia qua. Ah, ho detto va bene, non lo sapevo. Quindi anche quello mi ha fatto un effetto che conosceva molto bene i giocatori anche quelli di prima dell'Inter e di Fiorentina.